Siamo qui con Matteo Trincia dopo il gran colpo del Grifone Zello Verdi in trasferta contro la prima della classe, il 2-Pierreco Roma. Matteo, secondo gol consecutivo, ma soprattutto forse questa vittoria così importante vi porta fuori da un periodo di mini-crisi se vogliamo. Sì, sì, è una vittoria importantissima su un campo difficile contro la squadra che aveva fatto tre partite e nove punti, zero gol subiti, quindi siamo venuti qui con molta umiltà e abbiamo fatto una gran partita e sì, soprattutto seconda vittoria consecutiva che dopo un inizio un po' così ci dà slancio. Tu vieni da un'ottima stagione con l'Urbe Tevere, 21 gol, insomma tu sai finalizzare, lo sai fare, c'è da dividersi anche però adesso il campo, la parte offensiva con Tozzi oggi ma Zanzucchi in generale. Come ti stai trovando nei nuovi schemi di questo Grifone Giallo Verde che è molto equilibrato, non sempre segna tantissimo, però dimmi tu come ti trovi? Bene, bene, mi trovo bene, quelli che hai citato sono tutti i grandi attaccanti, non ci scordiamo Sabatini, Sansotta, l'altro Sansotta, abbiamo un reparto offensivo veramente importante come tutta la squadra e ci sta che inizialmente dobbiamo prendere un po', dobbiamo capire insomma i movimenti del compagno, tutto quanto, però ci stiamo trovando bene, i gol stanno arrivando e arriveranno.